Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. Mercoledì 6 novembre si è concluso l'anno giubilare dedicato a Santa Maria Crocefissa di Rosa. Per il bicentenario della sua nascita, il Vescovo di Brescia, Monsignor Monari, ha tenuto una concelebrazione eucaristica presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Brescia. Le Ancelle della Carità di Brescia, congregazione fondata da Santa Maria Crocefissa di Rosa, hanno festeggiato il bicentenario della nascita della religiosa bresciana. Una serie di eventi, spalmati nel 2013, conclusisi con la Santa Messa di chiusura dell'anno giubilare dedicato alla Santa, presso la Basilica delle Grazie e presieduta dal Vescovo Luciano Monari. Il messaggio grande di Paola di Rosa sia proprio questo, che Gesù Cristo è stato per lei il centro, ecco, di quel frammento di storia in cui lei si è venuta a trovare e a collocare in quel determinato momento storico. Senza dubbio l'amore grande per il Signore l'ha portata a vivere quell'intuizione di carità che poi, dalla quale sono nate appunto le ancelle della carità. L'intuizione di carità di Paola nasce da una grande fede. È stata la fede, la grande spinta, che ha portato Paola di Rosa a fare della sua vita un dono innanzitutto al Signore, alla Chiesa e ai fratelli. Oggi Paola ci chiede di continuare questa missione di carità nei diversi contesti in cui noi siamo collocati. Senza dubbio con una modalità diversa, ma con lo stesso ideale di ieri. Gli insegnamenti e l'operato di Maria Crocifissa, al secolo Paola di Rosa, sono tuttora vivi nelle attività delle ancelle, non solo nel territorio bresciano, ma anche nella ex Jugoslavia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, nell'America del Sud, Brasile ed Ecuador e in Africa, Burundi e Ruanda. Dall'assistenza ospedaliera e domiciliare, storica la presenza costante presso gli ospedali civili di Brescia, l'apostolato delle ancelle si è esteso alla cura degli anziani e dei bambini, con la fondazione di scuole, orfanotrofi e case di riposo, all'animazione parrocchiale negli orari festivi e a tutte le opere di carità. Oggi le ancelle della carità, in modo particolare a Brescia, ecco terra da cui senza dubbio Paola è partita, ma non solo a Brescia, comunque per quanto riguarda la nostra diocesi, oggi le opere sono molteplici e spaziano dalla sanità al sociale all'educazione, ma direi con una peculiarità e comunque con un tema trasversale, l'attenzione ai più poveri, l'attenzione ai bisognosi e soprattutto l'attenzione a chi si trova nella difficoltà.